Buonasera, come potete vedere siamo due operatori del 118, due operatori che intervengono per aiutare chi sta male. A parte gli scherzi abbiamo indossato questa maglietta, io e l'assessore Ludovico Abaticchio, assessore al welfare del Comune di Bari, perché è in atto un'iniziativa di questo assessorato, questo voi avrete i più fortunati, perché non arriva a casa, c'è una distribuzione fatta a mano per non spendere molti soldi, una lettera del Comune di Bari alle famiglie, in cui dietro c'è scritto La felicità di un bambino nelle tue mani, ed è una lettera che l'assessorato manda a tutte le famiglie, dove c'è un layout, sono così felice che mi viene da piangere, ed è una roba che mi tocca particolarmente in questo periodo, è l'affido familiare, insieme per un impegno comune. Il servizio affido familiare intende garantire ai minori in situazioni di disagio familiare il diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia di origine, offrendo il necessario sostegno sia al minore che alla famiglia in difficoltà. L'affido familiare è una particolare forma di sostegno a tutela del minore che prevede il suo inserimento, mirato e temporaneo, in una famiglia affidataria, ed è al contempo il necessario sostegno a quello di origine. L'affido familiare vuole pertanto garantire ai minori in difficoltà quelle stabili relazioni affettive che solo la famiglia può assicurare. In buona sostanza quello che si chiede è, caro cittadino, sostieni il progetto affido familiare minore e del comune di Bari, firmando nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi o del CUD, donando il 5 per mille, che non costa nulla, e la felicità di un bambino sarà nelle vostre mani. Questa è un'iniziativa che, ripeto, non costa niente, però aiuta e dà la possibilità all'amministrazione comunale e all'assessorato all'Uelfer di poter intervenire, soprattutto per quanto riguarda l'affido ai minori. Iniziamo la trasmissione, la trasmissione Dillo Emiliano, che purtroppo con il Consiglio comunale che sta discutendo il bilancio, purtroppo il sindaco non è venuto, però ci accontentiamo e siamo ben dieti di avere con noi Ludovico Abbaticchio, proprio perché è impegnato in questa attività. Buonasera Ludovico. Buonasera a tutti. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? L'iniziativa è di tutta la giunta comunale, è chiaro, 5 per mille, del resto è un'idea che è nata qui, proprio a Telebari, ne parlamo in anteprima, e quindi mi è sembrato giusto oggi approfittare di questa ospitalità per poter lanciare questo ulteriore messaggio di solidarietà che si rivolge ai cittadini e alle cittadine e soprattutto agli studi commercialisti, che sono quelli che possono favorire la dichiarazione delle vere. Una cosa che non costa nulla significa dare questo contributo, a questo progetto obiettivo solidale dell'affido per un bambino, la felicità di un bambino nelle tue mani, ed è un'occasione per poter anche sviluppare una politica più attenta e più partecipata sociale per quelli che sono le esigenti minori. Quest'anno abbiamo lanciato il progetto obiettivo sull'affido minorile, avremo un congresso, un convegno il 14 maggio in Consiglio Comunale, in collaborazione con le associazioni, con la ASL, con lo stesso Tribunale dei Minori, con il Comune, proprio perché vogliamo sviluppare la cultura nelle famiglie della disponibilità a poter raccogliere bambini che possono essere aiutati a vivere in un ambiente familiare più tranquillo, più sereno, in attesa poi di ritornare nel proprio habitat familiare quando le situazioni dei genitori possono essere ritornate in maniera più in equilibrio, spesso possono essere genitori, alcuni di questi che sono in carcere, oppure possono essere genitori tossicodipendenti, o in grave stato ambientale, economico, finanziario, quindi bisogna trovare soluzioni anche locali che ci aiutino, e quindi 5 per me significa prendere dei soldi già pagati per le tasse e dedicarle alla propria città, ecco perché.